Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dio nostro Padre, al Beato Michele Rua, Sacerdote, Erede spirituale di San Giovanni Bosco, hai dato la capacità. Di formare nei giovani la tua divina immagine. Concedi a noi. Chiamati ad educare la gioventù. Di far conoscere il vero volto di Cristo. Tuo Figlio. Donaci per sua intercessione la grazia. A gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Beato Michele Ruà. Pregate per noi. Pregate per noi.